Ciao a tutti amici di Mister Gadget, eccoci al primo incontro ravvicinato con il Galaxy Note 20 e il Galaxy Note 20 Ultra. Questo è il modello 20 nella versione Mystic Green, bellissimo tra l'altro, vedete con un display da 6,7 pollici full HD con il buchetto centrale che è una scelta condivisa tra i due prodotti, sul retro le tre fotocamere con questo colore opaco veramente meraviglioso. Questi i tre colori disponibili per quanto riguarda il Galaxy Note 20, quindi green, il Mystic Bronze e poi il Mystic Gray, con una soluzione secondo me molto bella, molto gradevole anche per quanto riguarda il retro. Se estraete la S Pen potete vedere lo stesso colore della scocca del telefono. Il modello Ultra invece, a parte la versione bronze, ha tre colorazioni lucide, un display che in questo caso è un Dynamic AMOLED con 120 Hz di refresh rate, vedete colori che sono lucidi a differenza di quelli del Note 20 invece nella sua versione normale e poi cambia anche la fotocamera posteriore e poi ne parliamo. S Pen, ci sono nuove Air Actions che vi permettono di gestire il telefono senza bisogno di toccarlo con la penna. Bastano dei movimenti del polso per gestire alcune delle attività che fate con la S Pen. Potete come sempre avete fatto ovviamente prendere appunti sul vostro display e poi eventualmente condividere questi appunti. Peraltro adesso una delle novità importanti è che tutto quello che voi scrivete, vi appuntate con la S Pen viene automaticamente sincronizzato dall'applicazione Samsung Notes. Ci sono le applicazioni a cui siamo sempre stati abituati, ad esempio i messaggi, i classici messaggi live scritti con la S Pen che generano delle animazioni che poi potete condividere come meglio preferite. Per quanto riguarda poi sempre l'uso della S Pen avete il riconoscimento anche della scrittura e come anticipato tutto quello che voi prenderete come appunti con la scrittura direttamente sul display o con la traduzione della vostra scrittura sullo schermo verrà poi sincronizzato con Galaxy Notes. C'è una latenza che è molto più bassa di soli 90 millisecondi che fa somigliare molto la scrittura a quella della carta. Fotocamera, la differenza fondamentale tra i due dispositivi è che il Galaxy Note 20 Ultra ha un sensore principale da 108 megapixel mentre il Galaxy Note 20 nella sua versione tra virgolette normale ha un sensore principale da 12 megapixel e un obiettivo da 64. Potete girare anche video in 21 noni, questa è una delle novità che quindi vi permettono di usare una schermata cinematografica e poi avete la solita valanga di opzioni che Samsung è solita offrirvi. C'è Android 10 a bordo di questo telefono, è un Android 10 nella versione personalizzata Note UI 2.5, c'è il processore Exynos 990, ci sono per quanto riguarda invece il corpo del telefono 12 giga di ram nella versione ultra 8 giga nella versione tra virgolette normale. È un telefono molto potente in cui potete inserire anche una nano sim, pensate fino a una micro sd, scusate, fino ad un terabyte di memoria. Ci saranno sia modelli a doppia sim che a singola sim, quindi insomma dovrete scegliere voi qual è il vostro prodotto migliore, c'è una differenza anche nel peso perché 208 grammi per la versione ultra, 190 invece per la versione Note 20 normale. Statiamo vedendo intanto un po' delle personalizzazioni del software che sono a disposizione, quelle di Samsung sono probabilmente tra le migliori personalizzazioni che voi trovate del mondo Android, potete veramente andare ad affondare nel menu del telefono per personalizzare tutti i dettagli possibili ed immaginabili. Qui vediamo ad esempio la personalizzazione del pannello rapido in cui potete cambiare molti dei dettagli che avete a disposizione, compresa anche la disposizione di tutti i comandi rapidi, però queste non sono novità che arrivano con il Galaxy Note 20. Novità invece importante riguarda il display. Solo però nel modello ultra, questo ha fatto storcere il naso a qualcuno, arriva il Dynamic AMOLED che vi permette di avere un refresh rate di 120 Hz e quindi animazioni molto più gradevoli. Forse per il prezzo a cui viene venduto anche il Galaxy Note ci si aspettava di avere un refresh rate più alto anche per il modello normale. Arriva un'altra novità importante, Samsung DeX, la versione tra virgolette desktop del telefono, arriva in modalità wireless, quindi sicuramente con funzionalità più comode. Migliorato anche il collegamento Windows che potete utilizzare con i vostri prodotti. Dunque 6,7 pollici per il modello normale, 6,9 pollici per invece modello ultra, 979 euro il prezzo base per il modello normale, 1329 euro invece il prezzo base per il modello ultra. Quindi insomma un prodotto sicuramente molto 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 impegnativo. Insieme ai nuovi smartphone del mondo Galaxy sono state presentate anche le Galaxy Buds Live con Active Noise Cancellation, con un software che migliora la ricezione della voce in conversazione. C'è anche un speciale driver da 12 mm con un diciamo evidenziazione dei bassi. Pacchetti in regalo per chi prende il telefono in prevendita da adesso fino al 20 d'agosto. Sia Galaxy Buds Live che Galaxy Note 20 arrivano il prossimo 21 agosto. Ne parliamo nei prossimi giorni con le prove.